Salgono i positivi nella nostra regione dove oggi si registrano anche 5 degenti ricoverati in terapia intensiva. L'aumento, seppur previsto, fa suonare un campanello d'allarme considerando che soprattutto fra i giovani ci sono ancora molti non vaccinati. Il referente sanitario regionale per le emergenze, Alberto Albani, invita soprattutto la popolazione giovanile alla vaccinazione e a comportamenti responsabili. L'aumento è legato appunto alle varianti e alla maggiore socializzazione che sta avvenendo in questo periodo estate, tutti escono e quindi c'è una maggiore possibilità di trasmissione del virus perché inevitabilmente ci sono degli assembramenti, cosa che non dovrebbe avvenire ma purtroppo avvengono. Nella nostra regione, dottor Albani, sono circa 60 i ricoverati in questo momento? Sì, sono 60 in reparti ordinari e 5 in terapia intensiva. Questo però aumento c'è, è costante giorno per giorno e questo non mi lascia tranquillo perché non vorrei che poi appunto in autunno dovesse ripartire la famosa famigerata quarta ondata. La maggior parte delle persone ricoverate e anche per la terapia intensiva sono persone non vaccinate e il problema è che sono persone giovani, sono tutti quanti trentenni, nella fascia di 30 anni, quindi questo significa che le fasce che prima erano non colpite dal virus oggi sono anch'esse coinvolte da questa malattia. Un appello veramente accorato a tutti di vaccinarsi, anche i giovani. Non siete immuni, è l'unico strumento, l'unico modo che abbiamo di evitare non soltanto i ricoveri in terapia intensiva ma anche soprattutto i decessi. Io ho visto delle immagini che venivano dalla Sardegna o anche in altri posti del Lazio, delle Miglioromagne in cui ci sono stati veramente degli avvenimenti sciagurati in cui migliaia di persone senza mascherine si sono riunite. Ecco questi sono comportamenti assolutamente da evitare. Siamo ancora in guerra, non l'abbiamo vinta, siamo in una fase in cui si può decidere le sorti dei prossimi mesi. Questo è anche dal punto di vista economico importante perché significa che se noi dovessimo malagulatamente, nessuno se l'acqua, le giornali in fascia gialla avremo di repercussione anche economiche e non ce la possiamo permettere assolutamente.